A tu sì che vale sì il divulgatore di Felicità, scatta la passione tra Gerry e Sabrina Ferilli con una performance canora che inizialmente sembra non convincere per le doti artistiche, il divulgatore di Felicità centra a pieno intento della prima serata di Canale 5, quello di creare un momento dispensierata con divisione e allegria A tu sì che vale l'attenzione del pubblico di Canale 5 si catalizza sul talento di Salvatore Cirillo, originario di Pompei, che sale sul palco del People Show presentandosi davanti alla giuria in qualità di divulgatore di allegria Con una performance canora che inizialmente sembra non convincere a pieno i giurati per le doti artistiche del concorrente, Salvatore Cirillo centra a pieno l'intento della prima serata di Canale 5, quello di creare un momento dispensierata con divisione e allegria Il ballo appassionato di Sabrina Ferilli e Gerry Scotti il concorrente porta un'esibizione sulle note del ballo di Simone La giuria tiene il ritmo e Maria De Filippi tenta di coinvolgere i colleghi ad alzarsi in piedi e ballare Sabrina Ferilli è scettica in un primo momento, così arriva a centro palco che il brano è praticamente terminato Teo Mammucca riprovoca il concorrente in maniera ironica, accusandolo bonariamente di aver cantato in playback Così Salvatore Cirillo viene invitato a cantare di nuovo senza base e poi ancora ad esibirsi su un nuovo brano, Semilasci non vale di Julio Iglesias, che lui sapientemente varia in Semilasci non vales A quel punto tutti i giudici sono in piedi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti danno vita ad un momento esilarante simulando una passione travolgente tra di loro E' stato un richiamo erotico sessuale, la canzone ci ha trasportati. Ti morderei tutto, lo provoca lei Poi si alzano e ballano lasciandosi andare ad un quasi bacio Dopo sto ballo può succedere di tutto, scherza l'attrice. Maria De Filippi balla con Giovannino La conduttrice si lancia invece in un ballo scatenato con Giovannino, la mascotte del programma interpretata dall'attore Giovanni Jovino, che dallo scorso anno catalizza la simpatia del pubblico a casa e in studio Protagonista degli scherzi di Sabrina Ferilli, questa volta Giovannino è il partner di ballo di Maria De Filippi, scatenata sul palco Ci ha fatto divertire come non mi capitava dal capodanno dell'84, commenta Gerry Scotti al termine della performance del concorrente, rimasto sul palco per parecchi minuti